Ciao amici! Oh incredibile, io non ho parole perché mi hanno appena detto che leggo qua che Amen è anche al quinto posto della classifica Spotify Viral 50 Italia Io non ho parole che è la classifica che raccoglie i 50 brani più virali in Italia Ed è stata, cioè Amen è stata inserita nella playlist Top Eats Italia di TopSify Italia Tutte ste cose sono veramente incredibili, io vi voglio un bene dell'anima, continuate a seguirmi, vi mando un bacione gigantesco, ciao!